Ormai ci siamo, sta per partire la nuova campagna antinfluenzale. Dottor Vizioli, mai come quest'anno è importante vaccinarsi? Allora, al momento la situazione di vaccini antinfluenzali in farmacia è questa. Noi farmacisti abbiamo tantissime richieste di vaccini antinfluenzali da parte dell'utenza. La realtà è che noi non siamo in grado al momento né di effettuare prenotazioni né di sapere quando arriveranno questi vaccini in farmacia. Anche perché quest'anno le dosi di vaccino in primis arriveranno presso i medici di base. E quindi le farmacie purtroppo saranno penalizzate perché ne riceveranno veramente pochissime dosi. E quindi noi siamo un po' preoccupati per questa cosa. Cosa dite ai clienti che vengono a chiedere il vaccino? Allora, innanzitutto non possiamo fare prenotazioni, questo l'ho detto anche prima. E non sappiamo nemmeno la data esatta di quando arriveranno questi vaccini. Noi consigliamo sempre di rivolgersi al medico curante perché i medici di base li avranno sicuramente. Per quanto riguarda la farmacia speriamo di ricevere le dosi che ci hanno promesso almeno entro novembre per poter fornire la nostra clientela. Alle farmacie, per esempio di Pescara, comunque della nostra regione, quante dosi dovrebbero arrivare? Allora, il numero esatto purtroppo non siamo in grado di fornirlo. Quindi non mi sento di fare previsioni. Effettivamente le dosi non saranno tante, saranno veramente poche. C'è la speranza, dottor Vizioli, da qui a qualche settimana di poter avere qualche notizia più positiva? Cioè la speranza è che tra ottobre e novembre le quantità di dosi di vaccino possano essere più abbondanti rispetto a questo momento? Sì, noi come Farma Nazionale abbiamo fatto richiesta agli organi politici di averne più dosi e quindi speriamo che nei prossimi, non mesi perché qua si parla di giorni, le dosi a nostre esposizioni vengono ad essere aumentate sensibilmente. L'ultima, dottor Vizioli, vogliamo dire che però mai come quest'anno sarebbe e sarà importante vaccinarsi proprio perché siamo in piena emergenza Covid-19. Sì, questo è già stato detto e ridetto, quest'anno la vaccinazione antinfensale sarà particolarmente importante perché ci fornirà un primo screening per differenziarlo dall'eventuale infezione da Covid-19. Quindi è importante farlo, il problema è che la popolazione deve esserne fornita.